E che lui sta un po' nervoso perché io guadagno più di lui, lui dice sempre che mi vuole uccidere, io dico amore ma se mi uccidi dopo a chi picchi? Come nasce questa iniziativa che portate proprio giovedì in mostra a Vasto? Allora l'iniziativa ovviamente nasce per il fatto che vogliamo ricordare questo giorno così come nel 1999 decise l'Assemblea degli Stati Uniti per poter mantenere alta l'attenzione e la concentrazione su un tema che purtroppo rimane ancora molto attuale. Quindi abbiamo deciso con un gruppo di amici e con un'associazione costituenda che si chiama Si e Amo Vasto chiedendo poi all'associazione Emili Abruzzo di partecipare insieme a noi e mettere in piedi questo evento dove vogliamo intanto raccontare una storia di donne, donne che sono vittime di violenza e che non sono solo vittime di una violenza fisica ma anche e soprattutto di una violenza psicologica. Siamo consapevoli del fatto che non basta solo un giorno per affrontare e sconfiggere questo tema ma sicuramente è una data commemorativa per continuare a sensibilizzare la gente e fare in modo che questo possa un domani non accadere più. Ogni volta che arriva un messaggio mi strappa il telefono, vuole leggere tutti i messaggi, è troppo innamorato, lo fa per me. L'associazione che ha sposato subito in pieno questo che è il nuovo progetto. Sì, io sono la Presidente, io sono un'insegnante di scuola media superiore e questa associazione ha sposato l'evento perché è un evento, una proposta che viene innanzitutto da donne quindi assolutamente siamo state favorevoli, abbiamo accolto con grande entusiasmo perché soprattutto il nostro obiettivo è proprio quello di trasmettere un messaggio che con la paura non si arriva mai a nulla. Per trasmettere però un messaggio che sia un messaggio di responsabilità e consapevolezza noi siamo dell'idea che dobbiamo essere dovunque e con chiunque soprattutto. Quindi ben vengano tante proposte come quella che c'è venuta dal gruppo della dottoressa Ronzitti e soprattutto le proposte che noi portiamo nelle scuole come quest'anno nelle tre scuole superiori di Vasto, Palizzi, Bantini e Mattei per le quali abbiamo studiato proprio un percorso sui diritti delle donne a partire dal 25 novembre fino ad arrivare all'8 marzo che vorremmo lanciare non come festa della donna ma come giornata dei diritti negati alle donne. Dice che sono una cosa sua come la macchina, forse per questo mi ha buttato la benzina addosso.